I danni provocati dalle Vespe E oramai sono insopportabili per la gente come me È il momento di fare qualcosa La missione è iniziata e ora stanno spruzzando dell'acido addosso dell'aspetto L'acido purtroppo sembra non aver funzionato Ora passeranno un altro tipo di rimini Vespe Ho deciso di colpire il Vespaio con un bastone Speriamo che almeno questo funzioni Intanto il resto della squadra non può fare nient'altro che aspettare e sperare È pericoloso, le Vespe si stanno avvicinando molto a lui Ma sembra essere abbastanza intretti da continuare Chi siamo? Sembra che sto funzionando E' pericoloso, le Vespe E' pericoloso, le Vespe